Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna, d'Andrea Raggini. L'alta pressione è tornata protagonista in tutta la nostra regione e anche nella giornata di domani il sole sarà il protagonista. Infatti i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi, questo a causa di qualche velatura di passaggio, soprattutto durante il pomeriggio. Sull'Appennino, al confine con la Toscana non sarà da escludere qualche addensamento che localmente potrebbe provocare veloci rovesci. L'instabilità poi aumenterà nella giornata di sabato quando i rovesci potrebbero nel pomeriggio tornare a interessare alcune aree pianeggianti. Per quanto riguarda la giornata di domani la ventilazione sarà debole, il mare quasi calmo. Temperature minime comprese tra 9 e 14 gradi, valori massimi ancora sopra la media del periodo di molti gradi, infatti avremo valori massimi compresi tra 18 e più 26 gradi. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini.